Salve, sono Massimo Cruciotti, cofondatore e attuale presidente dell'associazione No Profit SOS Archivi, sono stato invitato a parlare di sostenibilità e quindi come spesso sentiamo ripetere l'Italia è il paese con il maggior numero di proprietà inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, non a caso l'Italia è una delle poche nazioni al mondo dove la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale sia sancita dalla Costituzione stessa all'articolo 9, ma nonostante un cambio di passo recente per l'iniziativa di molti operatori pubblici e privati, non esiamo un esempio, resta diffusa la sensazione di una mancanza di visione politica, strategica e di conservazione e di promozione in linea con la ricchezza e la qualità del patrimonio disponibile. Parlando di sostenibilità con riferimento ai beni culturali oggi non possiamo prescindere da un riferimento all'agenda ONU 2030 anche nel campo assai vasto e articolato dei beni culturali e del paesaggio. C'è bisogno dal nostro punto di vista di uno studio interdisciplinare ai beni e ai servizi culturali di musei, archivi, biblioteche al fine di trovare delle risposte che diano corpo ad azioni comuni di sviluppo ai progetti di ricerca per la sicurezza e la salvaguarda del patrimonio culturale pubblico e privato con un approccio che richiede oggi maggiori competenze. L'individuazione di indicatori utili per misurare il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile contribuisce da questo punto di vista ad aprire una riflessione sui modi in cui il patrimonio materiale e quello immateriale possano contribuire allo sviluppo sostenibile. A mio avviso sono tre le componenti chiave. Rigenerare città e regioni attraverso il patrimonio culturale con il riutilizzo degli edifici in pessimo stato di conservazione, incentivare e sviluppare le attività avvolte alla protezione, alla conservazione e alla tutela del patrimonio con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, bilanciare le strategie per sensibilizzare e creare supporto a favore della salvaguardia del patrimonio. Ora, nell'ambito della sua missione S.S. Archivi è molto focalizzata per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, consapevole del fatto che la conservazione del patrimonio culturale sia fondamentale. Ecco, questi sono gli obiettivi che ci siamo dati. Un'istruzione di qualità inclusiva per promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti, una uguaglianza di genere nell'ambito dell'arte e dei beni culturali, promuovere una crescita economica duratura inclusiva e sostenibile con una piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze e rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. Ma il punto che vogliamo approfondire oggi è cosa ci manca per parlare di sostenibilità in modo credibile e comprensibile dai nostri interlocutori? Come possiamo arrivare agli stakeholder aprendo un dialogo con la rete dei nostri contatti e dei consumatori finali? In Estores Archivi pensiamo che la sostenibilità sia un elemento di aiuto concreto per consolidare il network dei soci che abbiamo costruito in 12 anni di attività come associazione non profit. Non è facile valutare l'impatto in termini di sostenibilità, mancano i numeri e quando dobbiamo spiegare in modo efficace cosa intendiamo per impatto sostenibile dobbiamo essere efficaci o almeno cercare di esserlo. E quindi come definire i contenuti e comunicarli? Riteniamo che i valori espressi in termini di sostenibilità debbano essere dichiarati in una valutazione d'impatto all'inizio prima di ogni progetto con una finalizzazione concreta degli stessi. I fruttori dei servizi devono essere informati direttamente anche attraverso i social media con articoli di approfondimento pubblicati con regolarità sui blog o attraverso video divulgativi e efficaci dal punto di vista della comunicazione digitale, quindi molto essenziali, in modo chiaro, trasparente e possibilmente mai autoreferenziale. Questi valori devono essere misurabili. E che significa essere misurabili? Cioè misurare la sostenibilità vuol dire misurare l'impatto delle nostre azioni anche attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati per prendere delle decisioni ma poi devono essere anche comunicati e come. Comunicare la sostenibilità per noi significa, in estrema sintesi, condividere le soluzioni che puntano a divulgare all'interno dell'associazione o all'esterno gli obiettivi di sostenibilità e le azioni messe in atto dall'organizzazione per raggiungerli. Noi ci occupiamo tra l'altro anche di formazione e sulla formazione cosa possiamo fare di veramente sostenibile, per esempio. Formare sui temi della sostenibilità per noi significa scegliere soluzioni che mettano in atto attività, percorsi, iniziative di formazione rivolte a categorie diverse. Quindi dobbiamo essere inclusivi in questo, studenti, dipendenti pubblici, dipendenti privati, liberi professionisti, cittadini. Li informiamo sui temi dello sviluppo sostenibile applicato ai beni culturali, intesi come bene comune. Fare rete è importante per noi perché ci permette di raggiungere obiettivi di sostenibilità. Iniziative che favoriscono la creazione di reti, network, partnership a livello internazionale nazionale o locale ci aiutano a diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile e a sviluppare progetti sugli obiettivi dell'Agenda 2030. Per concludere potremmo riassumere in sei punti fondamentali per noi. L'istruzione e l'awareness, cioè la consapevolezza sulla sostenibilità ambientale e quindi la messa in sicurezza del territorio, la lotta contro il cambiamento climatico e lo studio dell'impatto che questo ha sui beni culturali, i nuovi modelli per la produzione e il consumo di beni e servizi, il capitale umano e l'educazione, cioè migliorare l'accesso all'istruzione a tutti i livelli, un'istruzione e formazione all'ottica del lifelong learning, come si dice, dell'apprendimento permanente e in particolare per la formazione dei risk manager dell'arte e dei beni culturali. Il quinto punto è lo sviluppo di nuove competenze tecniche e professionali per l'occupazione, la creazione di nuovi percorsi formativi e buone pratiche di alleanza e partnership tra il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione. Desidero ringraziare infine gli organizzatori del Future Respect per averci coinvolti in questo interessante congresso che ci ha offerto oggi la possibilità di far conoscere SS Archivi che da molti anni cerca di coinvolgere i cittadini e i consumatori rendendoli partecipi sul tema della sostenibilità affinché possa influenzare i comportamenti e le scelte future di tutti noi. Grazie per l'attenzione. Grazie per la visione!